Ciao, in sta puntata di Imparacomi parleremo de maschile e femminile, e in particolare de femminile. Infatti, se diemo da tradurre la frase italiana Maria ha finito di studiare, in Veneto diseremo La Maria ga la finio de studiar, oppure A Maria ga la finio de studiar. Questo perché è obbligatorio mettergli l'articolo davanti ai nomi de Tosa. Sta roba qua in italiana la se un errore, in Veneto invece se un errore non metterlo. Mi raccomando però, solo davanti ai nomi de Tosa, perché magari ne viene in mente i trentini che dice anche il Fabrizio, il Marco. Invece in Veneto solo con i nomi de Tosa appunto. E sta regola non la se solo del Veneto, la catemo anche per esempio in catalan che gli dice la Maria, la Luisa. La catemo perfim nel Maori, che è la lingua degli aborigini della Nuova Zelanda, che gli dice amere. Ecco, sta distinzione tra omeni e femmine in realtà la catemo anche in altri punti della lingua veneta. Per esempio, quando adoparemo i verbi. Seguiamo da tradurre. Loro parlano inglese e veneto. In italiano, loro parlano, non ti dice se desiderio parlare con omeni o con femmine. Invece in Veneto, se puoi sapere, perché ti dici I parla veneto e inglese se se degli omeni, oppure le parla veneto e inglese se delle femmine. Anche nelle forme di rispetto, quando te gedei del lei a una persona. In italiano non te fai distinzione, ti dici mi dica pure, sia che te gabbia davanti uno o una. Invece in Veneto te geda dire el me diga se se uno, oppure la me diga se se una. Ecco, sta puntando insomma per dire che il Veneto si è molto attento ai generi e che, mi raccomando, non desmentegheve l'articolo davanti ai nomi dettosa. Ciao!